Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Loredana Lecciso ha finalmente svelato i dettagli del suo rapporto con Albano e Romina Power in un'intervista esclusiva rilasciata a oggi. La showgirl ha parlato apertamente della sua storia d'amore con Albano, dei litigi e delle gioie condivise, nonché della presenza costante di Romina Power e dei figli della coppia. La famiglia allargata di Lecciso e Albano è stata al centro della discussione, con la showgirl che ha ammesso che a volte il rapporto è stato troppo affollato e che avrebbe dovuto porre dei limiti. Vivere in una famiglia allargata richiede impegno e costanza, come ha sottolineato Lecciso, che ha anche rivelato di avere dei rimpianti riguardo al tempo trascorso con i suoi figli. La proposta di matrimonio da parte di Albano risale al 2013, ma il matrimonio non si è mai concretizzato. Lecciso ritiene che sarebbe stato più sensato tanti anni fa e che al momento sarebbe stato buffo. Nonostante ciò, l'amore tra i due è ancora forte e la gelosia non manca, con Lecciso che ammette di essere la più possessiva dei due. In conclusione, la showgirl ha aperto il suo cuore e ha raccontato dettagli intimi della sua relazione con Albano, dimostrando che nonostante le difficoltà e le complicazioni di una famiglia allargata, l'amore è il legame.